Ho chiesto al ministro dell'interno Marco Minniti di rivedere la decisione sulla chiusura del posto di polizia ferroviaria di Sulmona in questo momento più che mai necessario per la tutela di un territorio che non può subire soltanto spogliazioni e quanto dichiara in una nota la vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato Paola Pelino. Ho ribadito, spiega la senatrice sulmonese, come ho sempre fatto in passato al titolare dell'interno, l'importanza strategica della polfer di Sulmona per le sue funzioni di controllo di un punto di passaggio di tantissimi pendolari nel cuore del centro Abruzzo, il secondo scalo ferroviario della regione. Ho fatto inoltre presente al ministro la necessità di potenziare il punto di polizia ferroviaria, confido nella sua rapida attenzione per scongiurare questo nuovo e inaccettabile taglio, conclude Pelino. Proprio nei giorni scorsi, in un apposito vertice istituzionale, il ministero si è espresso a favore della chiusura del posto di polizia, nonostante la contrarietà del sindacato COISP che da anni porta avanti la battaglia.